Bravi, qual è la preoccupazione maggiore del sindacato? La preoccupazione è quella di cercare, e questo è il senso di questa iniziativa, dare certezza ai lavoratori dell'indotto, evitare la gara al massimo ribasso, che è un problema che succede in tutte le situazioni degli appalti. Qui alle spalle abbiamo un accordo importante e positivo, però a questo accordo va data concretezza. E quindi il senso di questo attivo unitario è quello di un tavolo con le associazioni delle imprese ternane, a partire da Confindustria, ma anche CNA, Confabri, Compartigianato, e l'altro va alla Regione dell'Umbria, che è stato un soggetto che ha siglato l'accordo,